Benvenuti alla Rassegna Stampa, oggi è venerdì 5 di febbraio 2021, siete sul canale 17 di Fano TV, la Rassegna è come sempre in onda per leggervi, sfogliare i quotidiani, in particolare le pagine che abbiamo selezionato per voi questa mattina, e allora prima il Santo, oggi festeggiamo Sant'Agata insieme alla Chiesa Cattolica, il sole sorgerà alle 7.23 e tramonterà alle 17.26. Uno sguardo al tempo, attenzione alla nebbia, per chi si mette in viaggio in questo momento in alcune zone della nostra bella regione, c'è la nebbia anche nei fondovalle, quindi prestate attenzione, dunque per quanto riguarda il resto della giornata abbiamo cielo nuvoloso anche sulla costa, in particolare centro settentrionale, per il resto nulla da segnalare, così come domani, soltanto banchi di nebbia nei fondovalle, formazioni di foschie notturne, ancora cielo nuvoloso sulla costa, ma il tempo peggiore, come vedete dalla grafica, con la pioggia diffuse, piogge diffuse nelle zone collinarie e montane sparse altrove, anche sulla costa dove ci saranno anche schiarite, ma comunque questo è il tempo di domenica, per quanto riguarda la settimana prossima avremo deboli precipitazioni, comunque tempo perturbato ancora per qualche giorno, da lunedì in poi. E allora adesso andiamo a vedere i giornali, cominciamo questa mattina dal Carlino, il resto del Calino di Pesaro, la fotonotizia per l'impresa del Fano, quindi parliamo di calcio, i Granata travolgono il Carpi, il titolo della fotonotizia è Fano, che poker, e poi i tamponi, i tamponi fuori legge, faceva tutto lei, poliambulatorio sequestrato a Pesaro, il direttore sanitario accusa l'infermiera amministratrice, gestiva da sola. Contagi e ricoveri, barlumi di speranza con la svolta di gennaio, faremo tra poco un confronto, il giornale anzi fa un confronto tra la prima ondata e la seconda ondata, poi la situazione oggi è venerdì, come sapete il venerdì è atteso nel pomeriggio l'esito delle verifiche da parte del Ministero, quindi capiremo, sapremo se le marche saranno nei prossimi sette giorni ancora in zona gialla, come sembra, oppure ci sarà qualche variazione. Poi c'è la cronaca, sempre dalla prima dell'arresto del Carlino, molestata al parco, è successo in un parco a Lucrezia di Cartoceto, si è avvicinato improvvisamente o avuto paura. Poi sugli impianti sportivi a Pesaro, il caso Pentathlon di Via Togliatti, Malagò blinda l'accordo e poi Cani senza guinzaglio, raffica di multe ai padroni, controlli dei vigili sempre a Pesaro e ancora ok, si può sciare solo che adesso manca la neve, si ha la riapertura degli impianti dopo il 15 di febbraio però preoccupano le alte temperature. Poi tutti in crisi ma almeno i libri si vendono di più, l'anno del Covid non è stato così nero, in alcuni mesi è andata meglio del 2019. Il Corriere Adriatico, edizione pesarese, la svolta green azzoppata, meno parcheggi e più alberi nel restyling delle vie Passere e Curiel, ma le auto transiteranno lo stesso, più sicurezza per i ciclisti ai pedoni e dissuasori di velocità, fioriere dalle forme allungate come sedute. Poi a centropagini invece il riquadro con cinque imprenditori, da Scavolini a Casoli, tutti per il nuovo governo, Draghi sarà un'occasione d'oro, dicono infrastrutture Sisma ci aiuterà, gli imprenditori top delle Marche parlano di priorità a collegamenti e riforma alla pubblica amministrazione, sono le richieste evidentemente dei big dell'imprenditoria marchigiana. Poi l'epidemia, effetto scuola, niente rialzo dei contagi dopo dieci giorni e ancora l'infermiera si difende a Pesaro errori procedurali, ma viene in qualche modo passato al setaccio il suo cellulare, norme Covid ignorate e sette lavoratori in nero chiuse due aziende a Urbino e poi da Fano promozione turistica unica per le valli del Metauro e del Cesano. Sotto l'annuncio impianti scistici il Catria al Via con nuovi servizi e poi Fano che poker al Carpi salvezza, adesso possibile i Granata vincono 4 a 0. Curva del contagio stabile a RT e RT a 0,95, le Marche sperano ancora nel giallo, i dati forniti dal governatore Quaroli fanno ben sperare per le decisioni attese per oggi da Roma, preoccupano invece il rialzo, il balzo delle terapie intensive e l'aumento dei ricoveri e gli ulteriori 16 decessi. Le vittime sono sei, quelle della nostra provincia, due anconetane, due Iesini, poi a Chiara Valle Fabriano dico della nostra provincia perché questa è una pagina che abbiamo tratto dall'edizione anconetana del resto del Carlino. In quella pesarese invece, Simona Spagnoli, questa mattina fa come dicevamo il confronto tra la prima ondata e la seconda. Il peggio è davvero passato, ecco la svolta di gennaio dopo i mesi neri. La nostra provincia ha avuto un andamento peggiore delle altre anche nella seconda ondata ma ora si vede una luce in fondo al tunnel. Il 13 di settembre si è registrata la ripresa dei contagi, poi tre picchi tra novembre e il mese di dicembre. A gennaio siamo passati invece da 1.050 nuovi positivi della seconda settimana ai 729 della quarta. Ma mi soffermerei tanto per darvi un'idea visto che il mese di gennaio è passato, ecco così anche voi potete rendervi conto di com'è la situazione nel vostro comune cominciando in ordine alfabetico da Acqualagna. Questi sono i positivi individuati comune per comune nel mese scorso, nel mese di gennaio. Come vedete Pesaro e Fano sono le due città ovviamente che registrano il più alto numero di contagi. Vedremo tra poco anche Pesaro, intanto Fano ha al secondo posto con 603 contagi, poi gli altri a scorrere Acqualagna 36, Cagli 63, Cantiano 30, Carpegna 42, Cartoceto 87 positivi, Fermignano 89, Fossombrone 110, Fratterosa 18, mentre Frontino è uno dei due comuni della provincia di Pesaro Urbino che nel mese di gennaio non ha avuto nessun caso positivo, così come Monte Ciccardo che è fermo a zero. Poi gli altri comuni, vedete Monbaroccio con 28 positivi nel mese di gennaio, Mondavio 48, Mondolfo 129, poi a scendere Pesaro con 855 positivi e a scendere ancora giù Piobbico 13, San Costanzo 39, San Lorenzo in campo 68, Sant'Angelo in vado 19, Sant'Ippolito 9, Urbania 80, Urbino 187 guadagna il terzo posto in classifica per numero di contagi e poi Vallefoglia con 121. Il virus non ha provocato l'effetto scuola, o meglio l'effetto scuola non si sente, quindi anche se per ora diciamo con i risultati che ci sono a disposizione dei primi dieci giorni di riapertura al 50% delle scuole superiori non si notano ripercussioni negative sulle curve dei contagi, bisogna comunque attendere. L'altezza del temuto rimbalzo, probabile nonostante le mille precauzioni, si potrà valutare bene tra una settimana, secondo le stime degli esperti, contagi nelle scuole più o meno la stessa che si aveva prima della riapertura delle superiori avvenuta il 25 di gennaio, scrive Lorenzo Sconocchini questa mattina facendo poi tutta un'analisi, chiaramente analizzando tutti i dati, sono curve stabili soprattutto nella fascia d'età scolare, appunto 14-18 anni, 10 giorni al 50% ma non si registra nessun rialzo, a ottobre l'ondata però arrivò in tre settimane, quindi siamo a 10 giorni, ancora qualche giorno, una settimana, una decina di giorni poi vedremo. Sulla seconda ondata dicevamo tutta un'altra storia, ricoveri il picco a 151 contro il 205 di marzo, come dicevamo questo confronto con la prima fase quando il dato dei positivi era più basso perché si testavano ovviamente meno persone e ci si concentrava soprattutto su coloro che avevano i sintomi. A gennaio la fascia più contagiata nella provincia di Pesurbino è stata quella tra i 45 e i 64 anni. Per quanto riguarda invece il trasporto scolastico, summit in prefettura Pesero, prima fase senza particolari problemi, c'è stato un incontro un po' per fare il punto della situazione, nei mezzi non sono previsti limiti di distanziamento. Sul fronte dei vaccini, vaccinati 2.700 sanitari, ma le dosi scarseggiano, ripartono dunque le somministrazioni del vaccino anti-covid, ma per medici ambulatoriali, specialisti e odontoiatri ci sarà ancora da attendere. Questi sono i dati, come scrive Letizia Francesconi sul giornale di questa mattina, le ultime dosi, 390 flaconi per la nostra area vasta 1, sono sufficienti, così come ricorda il responsabile del distretto di Pesero, solo per una casa di riposo, una SRA, RSA e per completare poi tutti i richiami della prima somministrazione a medici di medicina generale e operatori sanitari. Cambiamo argomento, abbiamo seguito ormai da diversi giorni la vicenda purtroppo triste per quella ragazza di Foligno, 21 anni, che pare dopo aver mangiato del sushi finita in ospedale, le hanno trapiantato il fegato, versava in gravissime condizioni. Questa mattina, pagina 9 del resto del Carlino, parla il professor Vivarelli, colui che ha operato la ragazza. Il trapianto era la sua unica speranza, dice Vivarelli, il chirurgo che ha operato la giovane di Foligno. Dunque, la ragazza è arrivata grave dopo aver mangiato sushi, il cibo però, attenzione, non c'entra. Ecco, cominciamo a fare un po' di chiarezza, perché se no qua poi si va in paranoia. Allora, aveva una malattia cronica, questo è importante da sottolineare, perché è giusto dire le cose come stanno. Dunque, adesso lei ha un fegato nuovo e deve ringraziare una donna di 50 anni che è morta all'ospedale di Bergamo, a cui sono stati espiantati gli organi e adesso questa 21enne ricoverata all'ospedale di Torrette per una grave insufficienza epatica potrebbe farcela. Il trapianto di fegato effettuato martedì dall'equip della chirurgia dei trapianti diretta appunto da Vivarelli è perfettamente riuscito e adesso la ragazza Umbra, grave dopo aver mangiato sushi, sta seguendo un delicato percorso post-operatorio. Il chirurgo trapiantologo racconta la preparazione e l'intervento, il post con un focus sulla donazione. Chiaramente l'organo era compromesso, lei non era il corrente della situazione, non c'era tempo da perdere e sulla questione sushi, allora ecco qua, anche perché immagino che tra i nostri telespettatori ci sia chi ama questo cibo. Allora, si è parlato del consumo di sushi, scrive il giornale questa mattina Pierfrancesco Cursi e chiede pensa possa essere stato determinante? La risposta del chirurgo è non credo, diciamo che è servito da acceleratore del problema, quella che per altri sarebbe stata una semplice gastroenterite per lei ha significato quasi la morte e credo che questo sia più che sufficiente e poi tutti i dettagli per chi abita e ci segue dalla provincia di Ancona e ha sotto mano l'edizione di Ancona del Carlino può leggere l'intervista. Intanto, tornando alla provincia di Pesero, controlli per i cani senza guinzaglio. Sono state levate sette multe da 100 euro l'una, rafica di verbali nella zona mare per scongiurare altre aggressioni ad animali di piccola taglia. La comandante della polizia locale di Pesero, Muzzini, dice in passato episodi gravissimi e dunque alzeremo la guardia. Poi c'è in un maneggio successo che intorno alle 15 di ieri nella zona vicino Borgo Massano una ragazza è stata colpita da un calcio di un cavallo, si è ferita e dunque è stata portata con l'elicottero all'ospedale di Torrette di Ancona. Dalla pagina invece di Urbino e provincia, a Urbania, c'è questa notizia di questi controlli, alcune fasi dell'operazione dei carabinieri della compagnia di Urbino che hanno controllato queste aziende. Aziende di lavoratori cinesi senza regole, sono scattate delle denunce, i carabinieri di Urbino hanno fatto un blitz in sei, in sei realtà, non in sei carabinieri, sei realtà tra Urbania e Cagli, sequestrate due fabbriche con dormitorio. Procedure anti-Covid praticamente ignorate, dove dormivano non c'era il riscaldamento. Incidenti durante la caccia si arrivi a zero. La ricerca dell'Università di Urbino ha riaperto il dibattito, parla per Rotti del Comitato Nazionale che difende natura e arte venatoria. A Fano, il Corriere Adriatico. Fano avrà la stessa voce delle vallate, 17 comuni riuniti nello stesso portale, firmato il protocollo per la comune promozione turistica dei territori del Metauro e del Cesano. Presentato il sito web che verrà lanciato nel mese di maggio alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano con tutte le proposte. Dunque si lavora in sinergia. Sulla pagina di Fano invece del resto del Carlino, la notizia di cronaca che riguarda un fatto che è accaduto al parco di Lucrezia di Cartoceto. Molestate in pieno giorno quarantenne sconvolte. È successo nella pausa pranzo al parco Piloni di Lucrezia. Un ventenne si è avvicinato alla donna che ha 40 anni ed ha iniziato a masturbarsi. Allertati i carabinieri. Mi sono alzata dalla panchina e ho gridato, quindi ho telefonato alle forze dell'ordine. Poi sulle scogliere invece a Metauriglia e Sassonia per la difesa della costa se ne torna a parlare tra regione, comune e categorie che sono quelle poi dei bagnini. Mentre sulla pagina, anche qui sulla pagina 21, ma questa volta del Corriere Adriatico, il titolo scogliere sfuma il finanziamento. Aguzzi dice cercherò di recuperarlo. A Metauriglia è impossibile eseguire i lavori entro il 2021. Si chiede lo spostamento al 2025. Ma per il tratto più rilevante i fondi non ci sono. Problemi anche per il varco di Sassonia. Mentre per quanto riguarda la viabilità fanese, sulla zona della trave i veicoli vanno troppo velocemente e dunque restringimento in via trave. La misura lascia perplesso qualche residente perché restano però i pericoli, meglio i dossi, con un autovelox. Poi i dossi sappiamo che in realtà non so quanto siano buoni. Nel senso che quando ci hanno i dossi, chi abita lì vicino è costretto tutte le volte a sentire, ogni volta a fare i salti dal letto a qualsiasi ora. O comunque passano le macchine, passano i camion soprattutto. E questi dossi fanno un gran rumore. Provocano un gran rumore. C'è lo strappo invece. Si parla di politica nella pagina di Fano del Corriere di questa mattina. C'è lo strappo all'interno del PD. Nasce una corrente anti-Minardi. Perini, sostituito nel ruolo di capogruppo consigliare, dice mi hanno estromesso. Mi ero dimesso, ma sarei dovuto restare fino al congresso. Ecco ora futuro democratico. Poi sotto ancora bilancio tra difesa dei servizi e investimenti. Mentre sulla pagina di Urbino, anche qui la cronaca con il lavoro nero e le norme anti-Covid ignorate in questa operazione d'Urbania. Chiuse due aziende, 28 mila euro di multa. Mentre a Vallefoglia, ecco l'immagine, no, questa è l'immagine del nuovo municipio. La fotografia si riferisce invece a Don Marco Di Giorgio che parla del presepe distrutto e che non è la prima volta. La comunità torna ad abitare la chiesa, dice Don Marco Di Giorgio. Ora chiudiamo a chiave il cortile. Questi gruppi lo fanno per noia. E quindi sono sintomo, dice Don Marco, di disagio. Due educatori adesso cercheranno di fare un lavoro per recuperare quello che eventualmente si può recuperare. Mentre la fotografia a fianco è per il via ai lavori del nuovo municipio di Vallefoglia che sorgerà vicino alla Casa della Salute. È stato piantato il primo palo sui 50 previsti. Sopra si edificherà la struttura che è prefabbricata ed è tutta in legno. Anche il resto del Callino parla dei lavori iniziati per il municipio costerà 700 mila euro e sarà realizzato, prefabbricato in legno, su una superficie di 1200 metri quadrati. Poi sotto a Guzzi, il piano dei rifiuti, presto porterò le linee guida in giunta. L'assessore regionale ha incontrato i rappresentanti ATA. Valmetauro, Corriere Adriatico, appello di Vescovo e Caritas regionale. Aiutiamo i migranti è una catastrofe. Emergenza al confine della Croazia. Migliaia di profughi bisognosi praticamente di tutto. Ed è stato aperto anche un conto per chi volesse aiutare, per chi volesse fare una donazione attraverso il bonifico. Un bonifico. L'appello che proviene dalla Caritas regionale è approvato dai Vescovi delle Marche ed è lanciato dalla diocese di Fano Fossombrone Cagliapergola perché Monsignor Armando Trasarti è il referente delle opere caritative marchigiane. È urgente aiutare i profughi bloccati in Bosnia. Circa 2.500 persone accolte in campi allestiti sotto la neve vicino alla città di Bihac, senza cibo, acqua potabile, riscaldamento, vestiti pesanti, migranti respinti al confine della Croazia lungo la rotta balcanica nel tentativo di entrare nell'Unione Europea per chiedere asilo politico. Insomma, il Vescovo parla di una catastrofe umanitaria e questo è il conto corrente bancario. Anche qui rinnovo l'invito. Se qualcuno ha il cellulare sotto mano può fare la fotografia a questo IBAN e quindi, che è stato aperto presso Banca di Intesa San Paolo, intestato a Regione Ecclesiastica Marche Caritas e può fare un'eventuale appunto donazione per aiutare questi poveri che appunto cercano una vita migliore. Non è che sono in vacanza, ne stanno lì a passare il tempo, vogliono cambiare semplicemente per il gusto di cambiare nazione o stato. Vanno via perché di là è impossibile vivere. Via libera invece per gli impianti sciistici. Riapriremo con proposte nuove, soddisfatti i gestori della stazione del Catria. In zona gialla si tornerà operativi il 15 febbraio. Ora, la neve non è che va a gettoni, ce la manda il Padre Eterno quando vuole. Quindi speriamo che dal 15 in poi questa neve torni a scendere su queste nostre montagne. Ce n'è stata tanta nelle settimane scorse, ma non c'era purtroppo la possibilità di sciare. La Seggiovia invece quadriposto e sei piste per 14 chilometri. Sabato già attivi il rifugio e la cabinovia. Donald De Miro, la sua saggezza nelle favole. Domani esce in libreria il volume postumo con storie e riflessioni. A Senigallia, addio a Billi, l'artista tra i fornelli di Uliassi. Si è spento a 42 anni a Torrete Andrea Franceschini, il ricordo del ristoratore. Ci disegnò i grembiuli e la padella di Magritte. Quindi oggi l'addio a Billi, il suo talento anche tra i fornelli di Uliassi. Si è spento nella serata di mercoledì in una camera dell'ospedale di Torrete dove si trovava ricoverato a causa di una grave malattia. che ha spento il suo sorriso a soli 42 anni. La passione artistica nel 2015 a Palazzo del Duca aveva esposto l'installazione a Bridge to the Future con il fotografo Ghiendoni. E questa è la notizia che pubblica il Carlino a firma di Silvia Santarelli. Andiamo adesso invece a vedere l'altra pagina di Senigallia perché su un Corriere Adriatico si parla di una macchina, un SUV, che sfreccia 104 all'ora e che è stata multata. Un pensionato è stato multato, una super multa, viaggiava nel centro abitato del Vallone a Senigallia, una sanzione di 544 euro e la patente praticamente ritirata. Il 67enne di Trecastelli è incappato nel telelaser di una pattuglia della polizia locale. Mentre a Ostravetere, impatto contro l'auto, il ciclista resta ferito. Sotto in lacrime per Urlietti, grande cuore rosso-blu. Da giocatore e da dirigente, Stefano è stato protagonista della storia del Vigor. Parlando di sport, invece il colpaccio del Fano, Fano che vince in casa 4-0 battendo il Carpi, Carpani, Nepi e il bis di Barbuti. Sinfonia-Fano ha annichilito il Carpi. Quinto risultato utile di fila per la squadra di Mister Destro che sembra avere trovato la strada giusta verso la salvezza. E con questo chiudiamo qui la nostra rassegna stampa. Grazie come sempre per averci seguito. Vi auguro una buona giornata e vi do appuntamento questa sera alle 20.30 con il telegiornale Occhio alla Notizia. Arrivederci. Grazie.